Parliamo di disturbi dello spettro autistico, di autismo, con uno degli esperti più noti e più celebri del nostro paese, Michele Zappella, neuropsichiatra infantile che da molti anni si occupa di autismo e che da 5 anni dirige la rivista Autismo e Disturbi dello Sviluppo. Ecco, in poche parole, il quadro più tipico, più caratteristico di bimbi o adulti con Disturbi dello Spettro Autistico? I Disturbi dello Spettro Autistico sono caratterizzati da tre tipi di difficoltà. Uno, una grave difficoltà nella relazione, che vuol dire difficoltà nella reciprocità, difficoltà nello stare con più persone, difficoltà a vari livelli di partecipazione emotiva. Due, difficoltà nella comunicazione, con una povertà di fantasia. In terzo luogo, delle modalità ripetitive, che possono essere nel linguaggio, possono essere nelle attività che si fanno, possono essere anche nel corpo e quindi sono delle stereotipie. Nelle forma completa dell'autismo sono presenti tutte e tre. E poi sono delle forme parziali, in cui possono essere presenti due, oppure possono essere un po' sfumate. Spesso in questi casi si parla di disturbi pervasivi dello sviluppo, non altrimenti specificati. Un'ultima cosa che non ho detto è che l'età di inizio nei primi due anni e mezzo.